Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovo episodio di Spillin'It's A, We're Me, Christiano Cervigi! Allora, ultimamente ne stanno uscendo veramente tanti, ma perché tutto gira intorno ad un reality che ci fa uscire delle cose super trash di cui dobbiamo parlare. Trash e non, perché la storia di Marco Bellavia non è stata trash, scusate, ho sbagliato parola, ma quello di cui andremo a parlare oggi sicuramente lo è. Anche perché dovevo per forza parlarne, poiché nel lontano 2019 voi sapete, se mi seguite fin da quegli anni, che abbiamo affrontato tutta la storia Pratiful dall'inizio alla fine. Il lunedì sera, durante una delle puntate del Grande Fratello Vip, ne hanno riparlato e quindi benvenuti con la seconda stagione di Pratiful, La storia d'amore tra Pamela Prati e Marche Caltagirone, in cui Pamela Prati ha raccontato finalmente, dopo più di due anni di silenzio, la sua verità. Quindi io in questo video cosa farò? State ben attenti. Ripercorrerò tutto quello che si sono detti Alfonso Signorini e Pamela Prati. Dirò e vi mostrerò quello che Pamela ha detto, dopo andremo a vedere le varie risposte dei diretti interessati, della storia, e poi vi racconterò le mie opinioni, quello su cui sarò d'accordo, quello che non mi torna ancora e poi ovviamente alla fine sarete voi a decidere il tutto. Ma prima non può essere spilling the tea senza la mia tazzetta. Adesso è vuota perché siamo in compagnia del mio drink. Quindi 3, 2, 1, momento ASMR. Ah, che bello! Quanto mi mancava sta roba? Oh, l'iPad! Mi si bagna l'iPad! Adesso chiudiamo tutto. Sorso iniziale. Ah, mettetevi comodi perché il video sarà a lungo e racconterò proprio tutto, tutto, tutto. Io sono qua, ovviamente ho preso appunti, perché così non tralascio nessun particolare. Nella puntata di lunedì del grande fratello VIP, Alfonso Signorini ha detto fin da subito che finalmente si sarebbe parlato del caso di Mark Caltacirone, del matrimonio fantasma di Pamela Prati del 2019 perché mancava appunto la sua parola. Dato che, come ben sapete, se vi ricordate bene, lei da luglio 2019 fino a questo momento, a parte un'intervista qualche mese fa a Belve, non è più tornata sull'argomento. Faccio un brevissimissimissimissimissimissimo riassuntino. Sì, però, se ti ci metti anche te, oggi un si finisce. Faccio un brevissimissimo riassuntino su tutta la storia Pratiful. Praticamente Pamela Prati inizia a andare nel lontano novembre-dicembre 2018 nei vari salottini televisivi a raccontare di questa nuova storia d'amore. Storia d'amore avuta con Mark Caltacirone, importante imprenditore italiano, che l'ha fatta innamorare subito. Prima su Instagram tramite il messaggio Buona Primavera, vi ricordate, e poi su WhatsApp con vari messaggi e varie telefonate. Il matrimonio ci sarebbe stato a maggio 2019 e da dicembre 2018 a maggio 2019 Pamela ha fatto praticamente il giro di tutte le televisioni italiane a raccontare di quanto fosse bella questa storia d'amore e tra le altre cose che aveva preso in affido anche i due figli Rebecca e Sebastian e quindi lei raccontava di quanto finalmente fosse appagata nell'essere diventata madre. L'esclusiva del matrimonio l'aveva con Verissimo. Verissimo era stato incaricato sotto l'audocompenso, si dice 60.000 euro, a registrare, a portare le telecamere durante questo benedetto matrimonio. E però a un certo punto tutta questa storia inizia a vacillare grazie a Dago Spia che lancia la bomba dicendo Marche Caltagirone non esiste da quel momento. Tutti, Barbara D'Urso, Silvia Toffanin, Mara Venier, Giletti sulla sette, iniziano ad indagare ed escono piano piano le verità e cioè che Marche Caltagirone non esiste. Il matrimonio ovviamente alla fine non c'è stato. Pamela Prati alla fine in un'intervista a Verissimo prima continua a difendere il proprio amore essendo convinta dicendo che Marche esisteva veramente ma che non si erano sposati per via di tutta questa pressione mediatica. dopo, piangendo, ammette tutto dicendo di essere stata truffata e che questo fantomatico fidanzato barra marito in realtà ha scoperto che non esiste. Da questo momento lei sparisce dalle scene va tipo a Capri, sta tutta l'estate a Capri comunque lontana dalla televisione mentre le altre due che erano le sue manager Eliana Michelazzo e Donna Pamela continuano ad andare a live non è la D'Urso per tutta la durata del 2019 fino tipo a fine luglio prima che il programma chiudesse per l'estate a sputtanarsi a vicenda dicendo è colpa tua, sei stata te, no, sei stata te. Eliana Michelazzo tra le altre cose proprio durante una di queste puntate racconta anche che il suo marito con cui era sposata da dieci anni Simone Coppi in realtà ha scoperto anche lei che non esiste e quindi si sentiva sposata ma in realtà non era sposata. Insomma è successo casino questo è il riassuntino, riassuntino proprio quello spicciolino se avete voglia di ripercorrere l'intero Pratiful del 2019 andate negli Spilling the Tea di quegli anni io ho raccontato per file e per segno tutto quello che succedeva se no mi basta andare sul mio profilo TikTok perché qualche settimana fa ho fatto dei video in cui facevo il riassunto durano tre minuti l'uno ma comunque ripercorriamo insieme tutta questa storia insomma fatta questa premessa fatto questo riassunto torniamo appunto alla puntata di lunedì in cui Pamela Prati finalmente racconta la sua verità e in questa verità ci sono anche delle super notizie shock che fino a questo momento noi non sapevamo che fino a questo momento non erano uscite ma ripercorriamo piano piano tutto quello che lei ha detto innanzitutto Alfonso Signorini le chiede di raccontare come si sono conosciuti e come ben sappiamo Pamela dice ci siamo conosciuti in un ristorante Alfonso poi le risponde ma come? quindi l'hai visto? e lei dice no nel senso che in un ristorante frequentato da varie celebrities mi hanno iniziato a parlare di lui dicendomi che comunque mi seguiva già su Instagram che anche lui stava passando un periodo un po' brutto in quanto la sua fidanzata lo aveva lasciato e si erano lasciati in malo modo e che stava comunque abbastanza male io cioè Pamela Prati sempre in quel periodo anche io stavo male perché mi ero appena lasciata da una storia importante durata sette anni e per di più avevo appena avuto un lutto in famiglia in quanto avevo perso una delle mie sorelle quindi ero anche abbastanza fragile che è successo in quel momento? lei va sul suo Instagram vede che c'è questo Mark Caltagirone che la segue e gli amici la spronano a scrivergli e è qui che nasce il messaggio buona primavera in quanto Pamela Prati dice il primo giorno di primavera io ne ho approfittato gli ho mandato un direct che ho scritto buona primavera e lui lì mi ha risposto il famoso messaggio adesso sì che è una buona primavera e da lì abbiamo iniziato a parlare e lui mi ha chiesto il numero per iniziare a scriverci su Whatsapp e ci siamo iniziati a scrivere tutti i giorni a tutte le ore del giorno e della notte io quando dico io sto parlando di Pamela Prati perché adesso sta parlando Pamela Prati al grande fratello raccontando questa storia mi sono trovata benissimo fin da subito perché in lui dice Pamela ho ritrovato le mie stesse fragilità in quanto entrambi stavamo soffrendo per situazioni abbastanza simili e fino a qui ci siamo questo è l'inizio della loro storia Alfonso a questo punto gli fa la domanda che tutti noi avremmo voluto farle ma scusa ma com'è possibile che tutti sia innamorata di un uomo senza averlo mai visto e lei qui inizia a raccontare delle cose che almeno io non mi ricordo quindi penso di non averle mai sapute però nel caso in cui abbia avuto un attimino un calo della memoria fatemelo sapere tramite commento allora ve lo leggo perché è una cosa difficile Pamela questa domanda risponde lui cioè Marco Caltagirone mi raccontò che era un figlio di un boss ok che vide poi morire i propri genitori da bambino e quindi diventato testimone di giustizia cambiò nome cambiò tutto e fu poi adottato dalla famiglia dei Caltagirone non si poteva far vedere e quindi non potevo nemmeno mostrare le foto perché appunto era un testimone di giustizia e quindi non voleva rischiare di essere riconosciuto appunto dalla mafia da questa roba qui dalle organizzazioni criminali e quindi solo per questo che non si faceva mai vedere che io non lo potevo incontrare anche per la mia incolumità questa osa ma è verosamente ora ma non è un po' troppo simile alla storia di Simone Coppi finto marito di Eliana vale non siamo qui allora premetto questo è un video riassunto ovviamente Pamela alla fine non ha ucciso nessuno ha solo preso in giro al massimo se non è stata truffata anche lei ha preso in giro gli italiani siamo qui per riassumere un po' il tutto per dare una conclusione a questa storia però alla fin fine al di fuori dei video e dello spettacolamento a me non me ne può fregar di meno ok non è che vado a offendila io poi vi dirò se credo a lei oppure no se ho cambiato idea oppure no però ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una persona vera in questo caso che comunque in un modo o nell'altro ha sofferto quindi non offendete mi raccomando nei commenti allora dopo questa cosa che era un testimone di giustizia lei continua dicendo che comunque era quasi normale no affezionarsi a una persona perché lo sentiva 24 ore su 24 dato che non poteva più nemmeno uscire di casa era rimasta lentamente a col passare del tempo praticamente solo aveva allontanato la famiglia aveva allontanato gli amici gli erano rimasti solo lei dice i miei truffatori e cioè Eliana e Donna Pamela che erano sempre insieme a lei e erano le sue manager e il mio telefono in cui dentro c'era Mark Caltagirone perché mandandomi messaggi giorno dopo giorno io mi sono affezionata oltre a scriverci tutti i giorni quindi racconta Pamela Prati sotto richiesta di Alfonso che hanno fatto anche l'amore virtuale mandandogli appunto dei video e delle foto Alfonso a questo punto le dice ma scusa ma glieli mandavi te ma anche lui te li mandava e lei dice sì però senza il viso cioè dal busto in giù e qui Alfonso dice ma lì non ti si accendeva la campanella nel cervello dicendo aspetta un attimo mi mandi le foto senza il viso c'è qualcosa che non va e lei dice no non ci ho pensato in quel momento anche perché io lo avevo intravisto qualche volta avevo visto che era brizzolato aveva un bel fisico e tutto in una videochiamata però prendeva male il segnale quindi andava a scatto e si vedeva male allora io questa cosa non l'ho capita in realtà molto bene perché come fai a fare una videochiamata se non esisti e soprattutto invece di fare la videochiamata se prende male cosa ti costa mandare una foto non lo so io questo pezzo non l'ho propriamente ben capito però non si sono loro soffermati abbastanza su questo pezzo hanno quasi fatto finta di niente però sono passati poi al momento in cui Pamela Prati siccome era stanca che non ce la faceva più perché ci ha raccontato che Mark Caltagirone tramite messaggio era anche molto geloso e quindi la sgridava in qualche modo per come si vestiva per le foto che pubblicava per come si faceva vedere anche in televisione e quindi lei racconta che per dieci giorni lo ha bloccato e racconta che è arrivata questa decisione di bloccare il suo numero e di non sentirlo più perché a un certo punto lui gli dice guarda ma come puoi essere la mia finanzata come puoi diventare mia moglie come possiamo sposarsi e tu come puoi essere madre dei figli Sebastian e Rebecca se vai in giro mezza nuda in questo modo e ti comporti così cioè Sebastian che soffre a vederti in questo modo tant'è che lei racconta di aver anche cancellato alcuni post in cui era magari un po' più svestita del solito però arriva questa gelosia dice lei arriva al culmine e lei quindi lo blocca per dieci giorni dopo dieci giorni lo risblocca perché racconta che una sua amica la convince a sbloccare Mark Caltagirone dicendo vabbè dai è normale è un uomo geloso passionale quindi non è tutto questo problema da bloccarlo sbloccano dargli una seconda possibilità questa amica io non so chi sia perché non fa mai nomi Pamela secondo me sapendo poi tutta la storia dietro boh non può essere o donna Pamela o Eliana perché altrimenti Pamela non avrebbe detto amica avrebbe detto truffatore lì al Gran Fratello però non so chi sia questa amica sarà Valeria Marini non lo sappiamo fatto sta che arriva adesso il punto in cui Alfonso Signorini ci racconta che anche lui era stato vittima di una truffa del genere con tale Simone Coppi io ve l'avevo raccontato nel 2019 che avevano provato anche con lui per qualche mese su Facebook infatti Alfonso racconta io mi ricordo che appena ho ascoltato la tua storia dei vari saluttini televisivi tipo Damara Venier mi è venuto subito in mente di qualche tempo prima in quanto un Simone Coppi su Facebook mi inizia a scrivere e mi dice le stesse cose tue quindi siccome mi ero accorto di quello che ti stavano facendo anche a te che era la stessa cosa che avevano provato a fare a me io mi ricordo che ti chiamai subito e ti dissi Pamela cosa stai facendo ti stanno truffando apri gli occhi scappa da lì perché è una situazione pericolosa e Alfonso a questo punto dice perché a quel punto se eri vittima non hai fatto niente t'ho avvertito persino io e lei risponde perché io non ti credevo io ero convinta che questa volta con Marche Caltacilone era diverso che esistesse davvero e dice anche di essere stata minacciata se lei avesse rivelato chi era Marche Caltacilone insomma ma qui è tutto diciamo un dico parole così a volte sono senza senso a volte non hanno un senso a volte sono contrari a quelle che avevo detto prima piango però senza lacrime e il racconto comunque non è che si sofferma mai su un punto particolare ma avevano tanta voglia di raccontare tante cose quindi anche su questo fatto su questo fatto su questo lato che Alfonso l'avverte la chiama e dice oh è una truffa ma svegliati un po' non è che si sono soffermati molto gli è andata bene la risposta io non ti credevo perché pensavo che fosse vero cioè capite non è stato un processo nel senso raccontiamo veramente la verità andiamo a vedere veramente le cose come stanno ma è stato più un secondo me cerchiamo di ripulire un po' l'immagine raccontando quello che vuoi raccontare secondo me è stato questo e andava anche bene no? però vado avanti perché parlano finalmente dei figli prima si soffermano su Sebastian il figlio maschio che Mark Cartagirone e Pamela Prati avrebbero preso in affido dicendo anche che loro i truffatori giocavano sul fatto e puntavano sul fatto che Sebastian avesse un brutto male che stesse male per impietosire Pamela tant'è che mostrano anche per la prima volta un video per la notte di San Lorenzo quindi il 10 agosto anche se dicono che era il 14 però poi dicono no è il 10 in cui Pamela Prati è sul terrazzo di casa sua da sola a festeggiare il compleanno di Sebastian da sola facendogli l'auguri tramite video ma lei è da sola dopo questo video mostrano anche delle chat di Whatsapp tra lei e Mark Cartagirone allora in queste chat se fossero vere sarebbero veramente gravi perché fanno vedere tipo le foto del bambino parlano del tumore del bambino e tutto quanto ma una cosa che io ho notato è a parte che non c'è la data e non fanno vedere la data quindi possono anche averla scritta tipo ieri sera non lo so quindi se sono delle ricostruzioni quindi chat fake se sono chat vere e tutto quanto boh non lo so io non voglio mettere il dubbio insinuare qualcosa però mi sanno un po' strano e a proposito dei figli è lì che Alfonso dice però ora va bene la truffa il matrimonio chi se ne frega il tuo fidanzato è che avete messo in mezzo appunto dei minori e soprattutto sei andata a parlarne in televisione per esempio da Mara Venier dicendo anche che te facevi la mamma che li vedevi tutti i giorni che li accompagnavi a scuola questo non era vero quindi te lo sei inventato come mai hai detto delle falsità sapendo comunque che non era vero quello che stavi dicendo ora va bene che per te esistevano ma se non li hai mai incontrati perché sei andata in televisione a dire li porto a scuola mamma fai quello mamma fai questo è tutto bellissimo e canti la canzoncina mamma Pamela da Mara Venier e lei lì risponde una cosa che sapevamo già però ve la ridico così vi rinfresco un po' la memoria dicendo che lei ha iniziato a parlare dei figli perché a un certo punto gli arriva un messaggio da parte di Sebastian il figlio maschio che gli dice mamma ma te non parli di noi in televisione non vuoi parlare di noi in televisione perché siamo dei bastardi e quindi Pamela dice quella parola bastardi mi ha rimbombato nella testa per tantissimo tempo perché appunto anche a me da bambina mi chiamavano in quel modo perché non ho il padre perché il padre poi era scappato e quindi non avendo il padre gli altri miei compagni di classe e di scuola mi chiamavano bastarda e ci sono stata così tanto male che ho iniziato a raccontare queste cose anche se non erano vere pur di far felici i bambini infatti dopo la puntata di Mara loro poi mi hanno scritto che erano super contenti di questa cosa e che erano fieri di me tra l'altro sempre del programma di Mara Venier domenica in in cui c'era mamma mamma Pamela insomma così Pamela ci dice nella puntata di Grato Fratello che lei non voleva andare a fare questa intervista ma che adesso ringrazia questa cosa questa ospitata perché grazie a quel giorno a quell'intervista che ha iniziato tutto quanto che hanno scoperto tutto quanto e quindi gli hanno salvato la vita in un modo o nell'altro ma che chissà che fine avrebbe fatto se tutto questo polverone non si sarebbe alzato poi racconta che Mark e Caltagirone avrebbe avuto un infarto e che avevano dato la colpa a lei per via delle preoccupazioni che gli dava andando in televisione dicendo cose o non cose dice che è stata malissima tra l'altro ha perso tantissimi chili pesando fino a 37 chili perché appunto si voleva togliere anche la vita data l'agonia mediatica dato l'essere stata truffata dato quello che stava passando e racconta anche che al matrimonio ci aveva creduto fino all'ultimo momento e che il vestito lo era andato a scegliere a Firenze insieme agli altri due truffatrici Eliana e Donna Pamela ma che Mark non c'era non era presente ovviamente ma le aveva detto scegli quello che vuoi tanto sarai bellissima lo stesso racconta poi ricordatevi che all'inizio ha detto che questo uomo non esiste ma a questo punto del blocco del grande fratello lei dice ve lo leggo non ho idea di chi sia quest'uomo ma spero un giorno di saperlo perché si deve vergognare no ma lo vorrei tanto sapere e spero un giorno di saperlo perché si deve vergognare anche perché un uomo dietro ai vocali dietro alle telefonate ci deve essere per forza ok quindi ci sarà una terza stagione in cui esce fuori l'identikit dell'uomo e quindi dirà tutta la sua verità non lo so spero di sì però al momento è questo e poi racconta anche che appunto lei ha avuto questa truffa che si chiama truffa affettiva che gli vengano portati via anche tanti soldi e lì arriva la domanda che prima gli fa Alfonso dicendo ma infatti c'è la gente da casa che dice sì ok vittima vittima ma comunque te ti sei fatto un sacco di soldi per questa storia e lei dice no non è vero assolutissimamente nulla anzi ne ho persi anche perché ho perso un monte di lavori tipo tutti quelli che avevo non sono stati confermati quelli nuovi ovviamente tutti scomparsi e quindi ho perso un monte di soldi non ci ho guadagnato Alfonso a questo punto le chiede il 10 aprile sì D'Agospia rivela a tutti che Mark Caltagirone non esisteva come hai reagito quando hai letto questa notizia cosa hai provato e lei dice che si sbagliava che non era vero infatti anche a Verissimo io ero super convinta che fosse che esistesse veramente infatti sono andata lì a raccontare la mia verità ma io ero convinta che ci fosse che c'era una persona dietro quel telefono e quindi ho continuato a dire che c'era che non era vero che tutti questi gossip non erano veri perché ci credevo arriva la domanda clou che adoro che tutti volevamo farla vi ricordate l'intervista questa famosa di Verissimo in cui lei a un certo punto esce dallo studio per mezz'ora perché diceva che era andata a telefonare a Mark perché Silvia Toffanini la stava pressando dicendo fammelo vedere perché non ci credo ok Alfonso gli dice ma te quando sei uscita dallo studio sei andata veramente a chiamare Mark Caltagirone lei racconta di no cioè sì ma non gli aveva risposto e che aveva mandato dei messaggi alle truffatrici chiedendo se poteva far vedere la foto di Mark e ovviamente loro le avevano risposto di no assolutamente no perché non si poteva rivelare la sua identità ma a questa cosa ragazzi io ci credo po' perché se te non puoi far vedere una sua foto in televisione per non rivelare la sua identità appunto perché testimone queste robe qua hai venduto l'esclusiva di un matrimonio quindi le telecamere l'avrebbero inquadrato addirittura non con una foto ma con un video intero quindi cosa ti cambiava far vedere una foto è quello che non torna ragazzi perché se te non ti puoi far vedere in una foto per non fatti riconosce ma ti pare che vai a firmare un'esclusiva televisiva per registrare il tuo matrimonio e fatti vedere in tutta Italia ma di questo non ne hanno parlato ovviamente perché sono andati oltre sono andati oltre e sono tornati ai figli in cui appunto Alfonso dice ma te comunque il figlio Sebastian l'ha incontrato veramente in un bar di Roma e lei dice sì ed è stato uno dei giorni più belli della mia vita io ero super contenta l'ho abbracciato me lo sono coccolato perché credevo veramente fosse Sebastian in realtà come ben sappiamo era un bambino anche la mamma del bambino all'epoca da Barbara D'Ulzo disse che anche lei era stata raggirata che donna Pamela le aveva detto che lui doveva fare dei provini che doveva mandare dei vocali in cui faceva finta di essere un bambino malato e in realtà questi vocali poi sono stati mandati poi a Pamela facendo finta insomma sapete tutta la storia Pamela racconta anche che appunto sono 15 anni che questi truffatori stanno facendo queste truffe parla anche delle donne di alcune donne che hanno avuto la stessa cosa che sono in politica ritorna poi ad Alfonso dicendo anche te l'hai fatto e poi io vi dico anche cioè ci hanno provato anche con Manuela Arcuri e tutto quanto lo sappiamo già arrivati a questo punto ragazzi l'intervista confessione non so come chiamarla insomma la verità di Pamela termina qua finisce con lei dicendo vabbè pesavo 37 chili stavo malissimo ci ho messo molto tempo per metabolizzare che veramente lui non esisteva insomma sì ma sono stata male però questa è la verità io sono stata truffata hanno scritto delle cattiverie indecibili insomma tutto quanto adesso arrivano le opinioniste quando iniziano a parlare le opinioniste mettendo anche un po' il dubbio dicendo vabbè quella è la tua verità io ti posso anche credere però lì Pamela cambia atteggiamento e inizia a essere aggressiva ok infatti poi loro fanno aspetta un attimo vedi ma che se te stai nel giusto perché sei aggressiva lei poi chiederà scusa dicendo scusate che è una situazione che ancora oggi mi provoca dolore però una cosa che dice la Sonia Bruganelli la fa andare fuori di cervello perché Sonia dice vabbè te comunque puoi dir quello che ti pare però in televisione a farle copertine a farle ospitate non ci andavi per la gloria ci andavi per i dindi quindi non puoi dire che non hai guadagnato niente ci hai guadagnato e come se ci hai marciato e Pamela lì si incazza che dice no non è vero ma cosa dici io non sono stata pagata e tutto quanto lì ha ragione Sonia perché sappiamo anche solo il gettone di presenza ti pagano comunque profumatamente io non penso che tutte le copertine che ha fatto anche con l'abito da sposa siano state gratis non mi sembra però vabbè questo è quello che lei ha raccontato Orietta Berti invece è molto più diplomatica ha detto vabbè io sono dell'idea che la verità non la sapremo mai e Pamela lì risponde no Orietta ma che dici la verità è quella che dico io perché io sono stata la vittima insomma è un casino a questo punto dallo studio arriva anche l'avvocatessa di Pamela dicendo che Pamela nelle interviste in varie interviste ha mentito perché è difficile spiegare a delle persone che sei innamorata di una persona che però non hai mai visto lei credeva veramente che Mark esisteva e era una persona in carne e ossa ma si vergognava a dire che non lo aveva mai visto quindi andava in televisione a dire sì l'ho incontrato sì di lì sì ci siamo visti sì di là in realtà non era vero ma lei comunque convintissima che esisteva che c'era racconta anche che adesso tutta questa storia è le stanno discutendo nelle sedi opportune quindi in tribunale e che casualmente appunto non può dire molte cose perché sono in una fase delicata in questi giorni in cui si deciderà tante cose ma racconta la bocatesta di Pamela hanno per esempio come prova più di 70.000 messaggi whatsapp mandati da Pamela a Mark insomma loro conversazioni 70.000 messaggi ragazzi in nove mesi sono un'infinità e che quindi questa storia si spera che vada a finire in un modo o nell'altro allora dalla loro parte hanno che Pamela era in un periodo difficile facevano leva sui figli quando Pamela ha provato a lasciare Mark due volte quello che stava dietro al profilo di Mark Caltagirone faceva leva sui figli su quanto stessero male su quanto invece erano contenti di avere una mamma sapendo che Pamela ha sempre voluto uno dei suoi sogni è sempre stato quello di diventare una mamma e quindi era super contenta e anche allo stesso tempo super volubile super triste super come posso dire rigirabile no così era anche il periodo in cui lei stava male e quindi era un po' più debolina e quindi c'è stata appunto questa truffa e hanno avuto la strada spianata possiamo dire così quando quando poi Pamela ha finito questo blocco torna nella casa diciamo che ha avuto un crollo vi faccio vedere il video ma io non so che trucco sta usando ma che super waterproof adoro un trucco impeccabile però comunque io non so se è stata male se è stata bene se è stata finta se è stata vera posso anche crederle ma adesso vi vado a dire tutto quello che a me non torna ok del perché io non ci credo ancora oggi ancora dopo cioè mi dispiace secondo me la storia è questa veramente all'inizio lei pensava che esistesse veramente hanno provato a truffarla veramente l'hanno truffata ma prima o poi te ne accorgi ok non sei stupida poi sta male quanto ti pare ma te ne accorgi oppure ti rompi anche un po' maroni dopo un anno che non ti vede mai con una scusa o l'altra ben cazzo quindi ok sì stai male ok sì vittima ma ci hai marciato sopra anche te perché ragazzi e ragazze non hanno parlato di queste cose che io avrei voluto avessero affrontato ma evidentemente non c'era una risposta allora io vi ricordo quando abbiamo affrontato questo argomento che a un certo punto sull'instagram di Pamela Prati c'è stata un instagram stories in cui lei era in una macchia mostrava che al volante c'era un uomo quindi delle mani di uomo e aveva taggato Mark Cartagirone con un cuore chi è questo uomo? se è vero che non l'hai mai incontrato perché non esiste? perché hai fatto questa storia sempre perché ti vergognavi nel dire agli altri che non l'avevi mai visto? però chi hai usato come manichino come comparsa? e poi un'altra cosa chi è l'uomo dal cappellino rosso che è uscito nella paparazzata insieme a Pamela Prati in cui tutti dicevano ed è stata venduta come Mark Cartagirone abbiamo poi scoperto che era una comparsa presa da donna Pamela per fare questa cosa architettata per cercare di mettere a tacere i gossip sulla sua inesistenza però lì Pamela era d'accordo e allora perché eri d'accordo? sempre perché te a questo punto eri stanca di dover sentire le voci che dicevano che il tuo fidanzato non esisteva? se il tuo fidanzato che tutti dicono non esiste ti ama tanto te disperata lo chiami e dici guarda per favore una foto falla insieme a me una chi se ne frega falla invece l'andà a prendere uno finto è quello che non mi torna poi la data famosa del matrimonio di maggio è pubblica ok? la fanno tutti era stata pubblicata però non ci sono mai state le pubblicazioni quindi anche questa cosa sapevi che c'era il matrimonio ma non sei andata mai in comune a fare le pubblicazioni o a prendere la data a fermare tutto ok? tanto tanto poi non hanno parlato nemmeno dei suoi presunti problemi con il gioco d'azzardo tipo il bingo dei problemi di soldi che dicono che ha inventato questa storia vi ricordate nel 2019 avevano detto i detrattori di Pamela Prati che lei aveva problemi di soldi per via del bingo e che quindi era d'accordo con le altre due nel fare questa storia per fare un po' di soldi non hanno affrontato sto discorso è vero che lei da Giletti poi disse non è vero è tutto finto io non ho mai avuto problemi di soldi però su twitter in tanti dicono che l'hanno vista molto spesso al bingo e che aveva perso anche ingenti somme di denaro non lo so io non voglio dire nulla però questi sono i miei dubbi che ancora oggi dopo tutto quello che è stato detto mi attanagliano secondo me è vero che ha sofferto per questa storia ma non per via del oddio sono stata truffata ma per tutto quello che è successo dopo e quindi è stata offesa è stata praticamente lasciata sola è stata praticamente fatta fuori dal suo business insomma per quello secondo me è stata male poi questa cosa del grande fratello posso dirla secondo me è stato solo una operazione di ripulire la sua immagine di cercare di ripulire un po' la sua immagine che secondo me era dentro il contratto per far partecipare Pamela perché io ho letto non so se è vero che lei dopo tutta questa storia aveva denunciato Mediaset e Barbara Durso ma per partecipare a questa edizione di grande fratello doveva ritirare queste cose queste denunce e nel contratto ho letto su Twitter quindi non so se è vero responsabilità non è mia ma di chi scrive le cose su internet io ve le riporto e basta qualcuno ha scritto che nel contratto c'era anche scritto esplicitamente che lei entrando al grande fratello doveva riaffrontare l'argomento di Mark Caltagirone e quindi secondo me è stato più un ok fai la vittima racconta la tua verità ma come vittima piuttosto che sii sincera con il tuo pubblico come hanno sempre detto al pubblico 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 no non te ne frega nulla pubblico te ne frega di più della tua immagine come è normale che sia ovviamente ti è stata rovinata l'immagine per tre anni ovviamente vuoi riscatto e a me questa cosa mi dispiace anche perché dentro il grande fratello quest'anno Pamela mi piace tantissimo è una delle mie preferite però non riesco a credere del tutto che sia stata una vittima di questo sistema che c'è stata una truffa è vero vedremo poi i tribunali cosa decideranno e chi pagherà oppure no però subito dopo questo blocco una delle truffatrici tra virgolette ha risposto tramite un Instagram stories e sto parlando di Eliana Michelazzo che io non l'ho capita sta storia però ve la metto qui e ve la leggo in quanto lei dice anzi scrive io non ho capito sta storia perché innanzitutto Pamela non ha mai fatto il tuo nome non ha mai fatto nomi ma anzi vi ha chiamato truffatrici e basta anzi truffatori seconda cosa non l'hai denunciata perché sei rispettosa ma a me se qualcuno mi fa no sa del genere io si denuncio tre secondi mi porta una seppia del rispetto di tutto quanto quindi questo fatto che tutti vi ricordate nel 2019 dicevano io ho denunciato lei lei ha denunciato me quella denuncia di lui truffa truffa e poi alla fine dei conti nessuno ha truffato ma sì nessuno ha denunciato nessuno mi sa di qualcosa di strano ragazzi via dai c'è qualcosa che non va in questa storia prontissimi per un'eventuale nuova puntata nuova stagione di live non è la d'Urza perché secondo me Barbara D'Urza la meglio a raccontare di queste cose e è una di quelle che cioè secondo me lo legge il twitter lo legge li legge i social quindi fa anche delle domande giuste che tutti noi ci domandiamo chissà Alfonso quando ha salutato Pamela ha detto per il momento questa storia è finita qui non ne devi più parlare quindi la seconda la seconda stagione di Pratiful la verità di Pamela è questa adesso tocca a voi io vi ho raccontato tutto vi ho fatto il riassunto di qualsiasi cosa nei minimi particolari tutto quello che mi ricordavo tutto quello che mi sono segnato vi ho raccontato anche i miei dubbi vi ho raccontato anche quello che penso io fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate se dopo la verità di Pamela credete a lei credete alle sue parole o se anche voi avete qualche dubbino ricordiamoci che è televisione ragazzi alla fine anche io una vita al di fuori di questo non me ponte restate meno perché alla fine non è che è venuta a rubarmi in casa è stato anzi il 2019 uno dei periodi più belli per quanto riguarda la televisione il trash e quindi è stato bellissimo pieno di popcorn e patatine parlare di questa cosa quindi anzi al massimo io ringrazio Pamela e Eliana e donna Pamela di questo super trash noi avevamo bisogno sì fatemi sapere voi qua sotto quello che pensate mettete vi piace a questo video se vi è piaciuto chissà se ci sarà un'altra parte ma per il momento il caso Pratiful ci ha messo tre anni ma è finito qua ci vediamo domani ciao 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 ciao